Signori bentornati in un nuovo episodio di Amnesia The Bunker Nell'ultimo episodio abbiamo completato tutto quello che avevamo da fare nella zona degli alloggi dei soldati E soprattutto anche alla prigione Sappiamo che ci serve una chiave inglese per poter entrare in quest'area qui Sappiamo che in quest'area delle celle se riusciamo ad aprirle, penso si sbloccano da qui Riusciamo a prendere la tenaglia che serve ad aprire uno stanzino qui e altre porte che avevamo sia qui che nella zona centrale Quindi a questo punto direi di esplorare per bene ciò che ci resta perché c'è per forza qualcosa che ci sfugge Una cosa che dovrei vedere è se aprendo quella valvola lì abbiamo sbloccato altri blocchi di emergenza E con altri blocchi di emergenza... ah ma si che li abbiamo sbloccati L'arsenale non era mica... non era mica aperto quindi possiamo esplorare già l'arsenale E' chiaro che ogni zona ti farà trovare varie cose per prenderne altre E nell'arsenale mi auguro onestamente di trovare anche armi o colpi Noi ne abbiamo spiegato solo uno per uccidere il prigioniero il tedesco lì che rompeva i coglioni che urlava tutto il tempo Cazzo Minchia c'è il gas e non posso scappare Porca puttana già iniziamo una merda iniziamo c'è il gas madonna Devo per forza aspettare che il gas se ne vada Comunque non vorrei dire ma ho iniziato a capire meglio adesso giocandoci più o meno il senso del gioco Quindi tu una volta che apri il blocco di emergenza ti apri le quattro zone E in ogni zona trovi magari un oggetto che ti aiuta a fare determinate cose oggetto per oggetto Vai avanti Noi per adesso sappiamo che ci sono ci servono le cesoie sappiamo dove sono ci serve la chiave inglese non sappiamo dov'è Qua per esempio per aprire queste porte qui ci vogliono Oh due tanniche di carburante queste sono golosissime Perché non so come siamo messi a livello di tempo Ha posato tutto a casa Comunque abbiamo la granata ecco la granata Può fungere pure Una cosa ovviamente se troviamo il blocco di cemento Brillante Non ha un codice Qua c'è un esplosivo potremmo volendo Usare l'esplosivo Questa si apre No ci vuole un codice Un'altra tannica di carburante Eh troppe tanniche Potrei tirare una granata Aspetta di qui possiamo passare sotto Tra l'altro lui era pure entrato quindi questi gran cazzi Eh un colpo Mamma mia ti sei rotto il culo E qua ci vogliono le cesoie Madonna mia Ci sarà qualcosa Eh niente ora tiro la granata qua e mi apro sta porta così vedo cosa c'è Ok Adesso piano Ok lui è lì Non dovrebbe venire qui in teoria Dovrei essere al sicuro Dai non mi dire che mi hai visto Invece no Se n'è andato Questo è un bene Abbiamo una granata a gas E uno straccio Aspetta aspetta che qua abbiamo Possiamo creare Ah ma posso comunque anche usare sta cosa Eh ok qua l'ho capito Che servono delle no Merda Ah le cesoie possono anche disattivare le trappole Questa foto ne è un indice Eh mi ha bloccato Sì come cazzo esco Ok Se n'è andato Se n'è andato Con calma C'è una bottiglia Qua c'è una roba E dobbiamo prendere quelle cazzo di cesoie però Minchia però comunque Ho parlato dei colpi Però non è balsa la pena ragazzi No dovevamo Ho parlato due colpi ma Cosa volevamo fare Dai Ritorniamo indietro Minchia Sappiamo tante cose ma È come se non avessimo ancora fatto nulla Il problema è questo Eh possiamo la carne Perché per adesso non ci serve Vabbè intanto Fugliamo il car Il generatore Intanto si è pure spento Aspetta che adesso ti fullo io Riattiviamo il generatore Bene Risalviamo Ci portiamo dietro Una molotov Una molotov Ce la portiamo dietro A questo punto Perfetto Quindi di qui si va all'arsenale Aspetta aspetta Riguardiamo un attimo Una roba velocissima La mappa Perché c'è ancora un'altra aria Vedete C'è ancora quest'altra aria Io sono andato all'arsenale Ma se vado di qui Dovrebbe esserci ancora un'altra aria E se qui non c'è un cazzo Disinstalliamo il gioco Qua avevo già esplorato tutto Qua qualcosa deve esserci Per forza Obbligatoriamente Guarda qua Qua ci sono le cose con le gesoie Che cazzo è il blocco delle celle E io non ho la carne Perché non posso usare la molotov Un ordigno in generale improvvisato Si frantuma e brucia all'impatto Devo prendere la carne Che due coglioni Potete andare a rompere i coglioni Da quel lato Grazie mille Dai Non si sono attirati Ok Perfetto In che zona siamo adesso? Minchia ma Mi hanno Eh vabbè Quanto cazzo mi hanno tolto Ma sto sanguinando? Ok Meno male che non sono Abbastanza ferito Da sanguinare Perché sennò era un casino Non fate entrare i rati Ok E direi che tre sono entrati però Carburante Una nota I ratti Hai notato che ultimamente I ratti sono cambiati Da quando hanno aperto Quelle gallerie Ti giuro sono diventati Più minacciosi Come se fossero sfigurati O qualcosa del genere Sono decisamente Molto più aggressivi Ti prego Dimmi che non sono pazzo Eh in effetti Non sono ratti normali L'avevamo notato anche noi Il problema è a sto punto Che cosa ha scatenato Tutto questo cambiamento Oh Delle bende E una foto Ah che è qua Che versavano Per bruciare i corpi Ok qua Non facciamo entrare i rati Eh cazzo Qua esplodono robe E noi ci chiudiamo qua Questo è un posto bellissimo E c'è uno straccio Aspetta un attimo Perché se io getto Un attimo La tannica di carburante Prendo uno straccio E li combino Li faccio un medikit E posso prendere la tannica Eh qua c'è un'altra tannica Di carburante Mica E comunque il carburante È così a schifo Qua c'è un filo Dobbiamo stare attenti Però perché dovrebbe servirmi A parte una granata a gas Che c'è collegata Però non vedo niente di utile Per cui andare lì A parte uno straccio Se qua faccio esplodere qualcosa Esplode tutto Anche se qua ci sono tre granate E io almeno una La devo prendere Quindi mi devo fare spazio Butto un'altra tannica di carburante E dammi la granata Oh cazzo È esploso un bengala Non ho fatto un cazzo Ok Qualsiasi cosa sia stato Ad attivare qualcosa Attirerà roba Ok Accendi la luce Qua potrei nascondermi Ok Qua c'è un blocco Potrei sparare al gas Potrei tirare una granata Ed esplode tutto Facciamo il panico Sai che ti dico Vado di granata Muoio no? Ma sti gran cazzo Sparali tutti Io nel dubbio Mentre voi vi incazzate Mi nascondo qui Ok Una piastina di goffin Sempre senza codi Ufficio del capomastro È qui che dovrei andare Perfetto Buongiorno Mamma mia Ma non c'è mai un cazzo Su queste armadette Non li apro più Cos'è? Oh Puoi trasportare più oggetti Cosa ho preso? Ah è un medikit Mica qua dietro C'è una molotov Completa Che cos'è? La foto del capomastro Ah lui Costruiva molotov Giraud Oh E abbiamo un codice Almeno Dai speriamo che questo codice Faccia trovare qualcosa di utile Nota un caro amico Gavin Ti avevo promesso una sepoltura cristiana Ma devi comprendere la situazione I ratti non smettevano di arrivare Brulicavano Vabbè avrà bruciato il cadavro Ho dato fuoco al tuo corpo E ai ratti Sperando di impedire a loro di tornare Se hai raggiunto il paradiso Ti prego perdonami Qua Vabbè C'è tanta roba comunque da prendere Gli oggetti ce ne sono proprio tanti Noi siamo pieni di minchiate Ma cazzo Io dovrei provare a tornare Mamma mia E' pieno di roba Oh cazzo raga Deve esserci qui qualcosa di utile Ma ci sono i ratti Questo non so cos'è Ma l'aria di qualcosa che esplode Vai Ok C'è una piastrina Vedi perché vanno lì Però che loro li avvisano lui Per come ho capito Pensa 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 Io qui da loro Da questi ratti Ho visto che lì Sembra esserci della carne Fammi provare una cosa Funziona Aia Mamma mia il panico raga Eh sono messo malissimo Sono messo malissimo Quanti colpi mi rimangono Ah tre colpi Porca puttana Non c'è un cazzo di accendino Una roba Mamma mia mi si è spento il generatore Questa non ci vuole Addio Troppe robe da prendere Troppe robe da fare Ho una granata a gas Provo a eliminare con la granata Questi ratti Madonna Via 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 Dobbiamo salvare raga Oh cazzo Ah io mi auguro muoiono col gas questi qui Perché veramente Finito il carburante Vediamo se prima di andarmene posso prendere qualcosina Eh sono pure messo male eh Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo andava così Proviamo a vedere se i ratti se ne sono andati Merda oh ma non muoiono Come cazzo faccio Devo prendere quelle esche per potermene andare Non me ne posso andare con questi ratti Allora di qui non c'è niente Qua c'è solo uno strato Ok ritiro qualcosa Posso anche fare così volendo Direi di no anzi ne è arrivato uno Ne è arrivato il cugino Richiede un accendino vedi Dai ma ce l'avrai un accendino Tu che facevi le molotov Devi averlo un accendino dai E non è possibile Questo fa le molotov e non ha un accendino Porca puttana sta pure entrando Guarda Buongiorno Due ore per aprire la porta Allora la situazione è questa Praticamente siamo respawnati E tutto da capo Allora io provo a raggiungere il punto Dove eravamo arrivati ragazzuoli Ma voglio provare a fare una cosa Una volta che prendo quella piestrina con il codice Dovremmo ritornare qui Perché secondo me quella piestrina Ci fa aprire l'armadietto E magari nell'armadietto Troviamo l'accendino Se così fosse Quell'accendino ci salverà il culo Perché è quell'accendino Che salverà il culo a noi Giusto per curiosità Si è salvato che abbiamo aperto Si ok manca l'ultima zona Quindi tutto quello che abbiamo fatto in questa zona Non si è salvato Ok ragazzuoli sono riuscito a prendere la piastrina E adesso nella stanza degli armadietti Dovremmo controllare Se veramente troviamo un accendino Perché se troviamo un accendino Veramente possiamo andare avanti Allora La piastrina è il codice di Giraud Eccolo qua Ok e il codice è 1059 1059 Dimmi che trovo un accendì Cos'era? Si Lo sapevo Per forza raga Per forza Doveva essere Ok Adesso che abbiamo l'accendino Possiamo usare le molotov E lì ne troviamo a miliardi Per uccidere i ratti E farci strada Minchia Ora si che tutto ha un senso Cazzo Allora Perfetto Qua creiamoci dei kit Volendo potremmo Potevo fare Allora Intanto un kit medico Lo posso Mi porto una molotov Uso il carburante Bello Così Perfetto Rifornito il generatore Ragazzuoli Io direi che per questo episodio Noi ci salutiamo qui Nel prossimo episodio Andremo Cazzuti Fino in fondo Fino in fondo Non vi preoccupate Fino in fondo Ecco qua 30 molotov Mi porto Figli di puttana Di dei ratti Comunque ce l'ho con i ratti Ho notato Alla prossima Fino in fondo Fino in fondo Fino in fondo Grazie a tutti.